Previsioni per mercoledì 10 aprile. Cielo inizialmente poco nuvoloso con graduale aumento delle nubi stratificate medio-basse nel corso della mattinata. Dalla tarda mattinata deboli e isolati piovaschi, fenomeni in esaurimento nel tardo pomeriggio, temperature in lieve diminuzione, venti di brezza leggera dai quadranti meridionali, mare poco mosso. Grazie a tutti.